Buon appetito! Andrea Signorini, il direttore commerciale dell'azienda. Ciao Andrea, bentornato! Ciao Fabio, grazie, è un piacere ritrovarsi. Dopo un anno, esatto, proprio dopo un anno, in quest'anno sono successe un bel po' di cose in Casa Zueg. Da dove partiamo? Diciamo che è stato un anno sicuramente complesso, con aumenti di costi e materie prime importanti. Siamo stati bravi, secondo me, insieme anche ai distributori, a fare fronte a questi aumenti. Siamo cresciuti, siamo cresciuti non solo a valore, ma, se guardiamo le confetture, anche a volume. E nell'Oreca, anche per quanto riguarda il mondo dei succhi di frutta. Abbiamo parecchie novità. Per prima cosa, nel mondo dell'Oreca, abbiamo diviso i due brand, Skipper e Zueg, dandogli un'identità molto chiara, Skipper sarà il brand dei senza zuccheri aggiunti, quindi avremo un'intera linea dedicata solo ai senza zuccheri aggiunti, 13 gusti, mentre Zueg sarà il brand della tradizione, con zucchero, 18 gusti. Abbiamo reintrodotto tre gusti 100% da frutta, con ananas, arancia e mela. Quindi una chiara distinzione di due brand e cercare di percorrere il trend del momento, che è i senza zuccheri aggiunti, per quanto riguarda i succhi di frutta. Non dimentichiamo però anche le mermellate. Sì, c'è un'importante novità, noi siamo leader nel canale moderno, nelle confetture, e abbiamo pensato di potenziare la nostra offerta anche nel canale Oreca e Food Service, con un mastellino da 1,3 kg, intanto al gusto albicocca, ma speriamo di avere altri gusti e altre novità nel futuro, per potenziare la nostra offerta e cercare di essere più capillari nella distribuzione, anche nel mondo dell'Oreca. Parlando di distribuzione, voi siete già estremamente coperti in modo davvero molto capillare, nel normal trade, nella GDO, nell'Oreca e nel Food Service, ma nel vending? Nel vending diciamo che abbiamo due prodotti molto adatti, diciamo, al canale vending, con il 200 e il 330 in brick, e sicuramente siamo alla ricerca anche di nuove figure che ci aiutino a sviluppare il canale, abbiamo fatto anche importanti accordi commerciali con alcuni clienti e cerchiamo dei agenti che ci possano aiutare, soprattutto nella parte del sud Italia. E dunque, per tutti coloro che desiderano contattarvi, che sia per proporsi come agenti nel vending o anche per piccole coperture nella GDO, nel Food Service, o magari dei potenziali clienti che hanno voglia di provare i vostri prodotti, diciamo i pochi, perché avete una copertura davvero territoriale, estremamente ampia e capillare. Qual è l'indirizzo e-mail a cui potete scrivere? È facile, info.chiocciolazueg.it È semplicissimo. Andrea, io ti ringrazio per la pillola informativa e direi di rimandare il nostro appuntamento al prossimo anno, sempre qui a Beer and Food Attraction. A presto e un saluto a tutti e che sia un 20-24 di ottimi risultati.